L'ultimo episodio di vandalismo risale alla serata dello scorso 20 giugno, quando attraverso il lancio di alcune bottiglie di vetro recuperate dai cassonetti, erano state distrutte alcune vetrate del liceo scientifico Marconi ed era stata rotta la telecamera di sorveglianza esterna collocata nel piazzale adiacente all'istituto. Gli eventi di fine giugno sono stati però soltanto gli ultimi di una più lunga lista di atti vandalici che da tempo si registrano nella zona del campus e per i quali non sono mai smesse di arrivare segnalazioni da parte di cittadini residenti agli organi di polizia. Le ripetute chiamate giunte alle forze dell'ordine indicavano sempre la presenza di giovani ragazzi intenti a danneggiare oggetti o spazi situati nell'area. Grazie però all'acquisizione delle immagini delle altre telecamere di sorveglianza presenti al campus, sono stati identificati gli autori degli ultimi atti vandalici registrati a fine giugno. Due di questi, di età inferiore ai 14 anni e dunque non imputabili, sono stati segnalati alla procura della Repubblica del Tribunale dei minorenni, mentre il terzo, avendo già compiuto i 14 anni, potrebbe ricevere una denuncia per danneggiamenti. Sull'accaduto si è espresso anche il dirigente del liceo scientifico Marconi, Riccardo Rossini. Stamattina siamo stati avvisati dalla Digos che alcuni degli autori dei danneggiamenti sono stati identificati. Siamo rimasti sorpresi, soprattutto nel prendere che l'età di questi ragazzi è di circa 13-14 anni. Pensare che alcuni adolescenti possano vincere la loro noia sfasciando, rompendo vetrate, telecamere, sinceramente ci lascia basiti. I danni registrati ammontano a circa 5.000 euro. Speriamo che possa essere per loro un monito e nel contempo anche qualcosa di educativo, che possano capire gli errori che hanno fatto e che non li possano ripetere. È comunque probabile che gli atti vandalici non sono imputabili unicamente ai tre che hanno individuato, perché normalmente bivaccano in quella zona 10-15 ragazzi praticamente tutti i pomeriggi. Mi sembra strano che soltanto loro tre abbiano partecipato alle devastazioni di questi ultimi mesi.